Salve a tutti, oggi siamo al 4 di Sivan, 48esimo giorno dell'Omer, stasera si conta l'ultimo giorno 49 dell'Omer e domani sera è Shavuot. Mercoledì mattina, martedì sera Shavuot, mercoledì mattina, tutti quanti ci alziamo dal letto e a posto di andare a lavorare andiamo in tempio a sentire i dieci comandamenti organizzati per tempo di portare tutti quanti, giovani, donne, bambini, anziani, neonati, tutti quanti, come quando Dio ce l'ha dato a Torà ce l'hanno tutti, così quando Dio ce la ridà ogni anno andiamo a essere tutti presenti, praticamente il dono da Torà è come un contratto di matrimonio, sposalizio tra noi e Dio e chiaramente sarebbe assurdo se la sposa manca al proprio matrimonio, noi siamo la sposa, Dio è la sposa.